Eccoci giunti appunto alla seconda parte dell'apertura del box di Tida Storm Nella prima parte abbiamo trovato questo Wailord EX e questo Gallade EX Ok, ci restano gli ultimi dieci pacchetti e vediamo che cosa troviamo Ok Abbiamo un Trainer, ok Purtroppo i nomi dei Pokémon non li ricordo tutti Un Silio questo dovrebbe essere e poi un addestramento da dare a Gardevoir mi sa Si Non si mette a fuoco Ok Poi il secondo pacchetto della seconda parte Fogliettino con Archeogliogre E andiamo a vedere Mr. Mime che non c'era mai uscita Uno Stario, un Wither e uno Skitty No, Delcati Piano piano imparerò anche I nomi dei Pokémon che non so Questo è con il Team Hydro Carzzatina E abbiamo Uno Starmy Un Cydia Electros forse Merrill E poi questa è doppia perché è già uscita dalla confezione di Metagross Shiny Poi Questa cartolina è nuova E con Mega Swampert Ok Vediamo E abbiamo Una Zoomerrill E un altro Ludicolo dovrebbe essere Questo con Sceptile Ok E abbiamo Ho visto una X Questo dovrebbe essere tipo il condivisore di esperienza o qualcosa del genere Chinchou Un Mudkip Un Loaded E poi Un Mega Gardevoir Sì Ok Prendiamo La Mostina No, allora Questo è Purtroppo i nomi non li so Quindi Vabbè Poi mi le dite voi nei commenti Casomai E fino ad adesso ci sono uscite 3 X Vediamo se c'è anche la quarta Questa con il Team Flare E abbiamo Trainer Un Orsi Un Tentacrull Mascherine mi sembra E un Ludicolo Olo E un Ludicolo Olo Quanti pacchetti sono rimasti Gli ultimi 4 Ok Penso di prenderne altre Di box in futuro Non di questa Di questa espansione Delle prossime che usciranno Se non sbaglio Dovebbero essere su Su Rai Quaza Se non sbaglio Però non ne sono sicura Un Tentacool Clamper E un Lanthorn Ultimi Tre pacchetti Questo è un capopalestra Non ricordo il nome E abbiamo Purtroppo i nomi Non li ricordo proprio Skitty Kakuna E il capo Del Del Team Media Vediamo se ci esce L'ultima X Questo è Rocco Ok E abbiamo Una carta con Archeo Chiogra Non mi ricordo il tuo nome Fibas Non mi ricordo il tuo nome E non mi ricordo il tuo nome Però sei Yolo Ok L'ultima bustina Vediamo che ci esce Sheptal Come sempre E abbiamo Un ludicolo Questo Chinchou Un orsi E uno Swampert Va bene Quindi In questa seconda parte Abbiamo trovato solo Questa Yex Che Dovebbe essere Mega Gardevoir O Mega Gallade No Mega Gallade Mi sa Non ne sono sicuro Questo Dove essere Il Gallade E questo Mega Gallade E Va bene Spero che vi sia piaciuta Questa apertura Un saluto a tutti E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao